Il Signore di Almeida L'Avoria Il Signore di Almeida Ma le ne va incontro? No. Ma proviamo a capire un'arma Grazie a tutti. Buon lunedì a tutti da Oscar e Mauro, della ferrata di Asì. Mauro, è il amici del cane. Ciao a tutti. Abbiamo fatto la rata di Asì, conquistata. Sei senza fiato Mauro? Oscar, Mauro, gli amici. Dalla tattica, dalla cima della Biasì. Noi siamo gli amici del Carrega, anche gli amici del Carrega. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao. Ciao a tutti.